salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione di minecraft ita andiamo subito a vedere senza perderci d'animo cosa succede cosa faccio c'è dove siamo siamo qua come vediamo siamo qua la mia bellissima farm di endermen che massacriamo con i polpi e oggi siccome volevo provare l'elytra e quindi diciamo con la creative me ne ero presa una allora oggi andremo a caccia dell'elytra con l'elytra quindi pronti void ok allora io direi prendiamoci prima queste robe qua che non ho la più pallida idea di cosa sia allora questi qui sono i portali di ritorno che a quanto ho capito ce ne sono un po ogni tanto un po ogni tanto ogni tanto ogni tot e distanza ci sono i portali di ritorno di cose di distanza ci abbiamo di questi portali di ritorno perché non me ne da cos'è che buttiamo via buttiamo via un occhio di ragno ma fa stesso ok come si fa allora dobbiamo trovare noi dobbiamo viaggiare abbiamo solo 19 razzi e dobbiamo viaggiare e andare in cerca di un vascello con l'elytra quindi pronti speriamo di non morire in the void con l'elytra andiamo in cerca di andare in cerca di un adesso non mi ricordo come si chiama una costruzione nel void siamo troppo veloci e non carica abbastanza rapidamente che belle queste piattaforme se potrei costruirci qualcosa dobbiamo evitare di schiamare eccola allora siccome noi dobbiamo vediamo di atterrare senza romperci una gamba e quella lì cos'è al studio di ritorno guarda a sinistra beh ci sarà ok ok allora adesso ci serve arco con infinità e ok ci siamo perché ci sono delle cose chiamate shulker che ci faranno fluttuare e noi dovremo massacrarli aspettate che mi sono accorto adesso che non c'è il rumore è bello sentirli pericoli ecco lì qua è fuori 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 vuole via se te le trasportato e basta e mori e mori uno shulker uno shulker che sto stai volando volando sto volando ma io voglio che finisca il fatto io voglio che non è certo allora cosa fa lo shulker mo praticamente ti abbia le cose delle ceste allora quanto ho capito eeeh 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 ma cadetevi qua shot ma prendete in colonna non te la troppa no è perché non l'ho colpito con la spada la mia spada cialuti quindi mi droppano ok adesso vediamo le abilità da parkour che non so se ti ricordi ma questo è anche un parkour semplice guarda che bravo che sono bene cagata sono messa a scala scommettiamo che riesco a cadere allora a quanto ho capito in alcuni punti eeeh cazzo ti mirano bene ma ci sono delle ceste anche li chiamavo si ci sono delle ceste tipo con roba di diamanti eeeh sono ovunque sono ovunque poi shot legata che voli sì ma io non voglio andare dai aia sembra non ti fa neanche danno per cui gli scatti sì perché nel senso potrebbe ucciderti se non serve allora vogliamo scendere adesso dobbiamo one shotare e mario stai colpendo lo scuolo non penso se tu fai il molevole ma dov'è scusami eeeh c'hai trovato e ma pigliato il titolo aia ma dov'è che dove arrivano c'è quant'è bulli e vediamo cioè poi ti puoi fare tutto volante è strauntile sì figata allora one shot perché non perché non vuoi ha sciotto più non vuoi ha sciotto più e che cavolo ma scusami è morto fatemi scendere voglio scendere ma su di lì aspetta 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 allora sfruttiamo saliamo non è utile un cazzo ah no anche il teletrasporto a farlo si adesso sono troppi oh si sono buoni ma tu mi stanno sciottando ecco le ceste ecco le ceste ecco le ceste adesso però scusa adesso volete anche fanno male eh sì il minimo te lo fanno però non voglio mezzo cuore hanno più benefici apriti sesamo ma non è giusto ok poi uno apriti olleh vediamo cosa c'è nelle cesto ma chi è che mi ha colpito ma chi è che mi ha colpito da dove vengono non lo vedo ma cadì boh vabbè e la madonna maledizione della scomparsa che sfiga è che mi ha colpito da dove vengono ecco lì resta allora facciamo così allora facciamo degli scambi equi allora io insomma del carbone ecco che cazzo è quelli nè dare è vero aspetta proviamo a vedere aaaah sono fregato perché mi serve un mi serve della legna che schifo che tristezza mi serve della legna per farmi una crafting table come è possibile se avevo vedi se avevo mai preso del ferro numericette sbloccate del ferro c'è qualcosa di strano guarda quello qui su efficienza e distruttività gli smeraldi gli lasciamo giù cosa gli lasciano giù l'uovo è uno scambio molto ecco protezione stra bello chiedi non c'era quelli con cosa gli lascio giù l'acciarino che tanto fa stesso manca gli stivali non li hai presi c'è solo uno ma che no si era dei stivali vedete ecco la barca la barca allora vediamo di morire adesso la cazzo lancio la dire eh ma non è giusto ma non è giusto questo beh anche te la mano ma che si cade da lì ti incula se cade da lì si culo no eh ma vola entra dentro no 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 vabbè una salvezza buttati con l'elitra no semplicemente fai così non ci avevo pensato però la barca è già salpata ma cioè si muove no no ma dovrebbe essere lì attaccata la barca non la arrivarci arrivarci in volo aspetta che c'è una mischianta è una bella combo l'elitra più oh siamo saldi ma non c'è saluta istantanea saluta istantanea saluta istantanea 2 allora c'è addirittura c'è un sugar lì ok ok la protezione dell'elitra vai ender ma c'è l'incorretta ha voluto morire o no? ah ok olle perchè c'è dell'ossiliana? chifo intanto abbiamo 32 di ferro una pala una pala con efficienza guarda braghe altro ferro adesso prendi l'oro e nuove ricette sbloccate fammi capire no l'oro no allora non ho più missione perchè ho una barca? scusami fai uno scambio mette che la barca lì il prossimo che arriva si trova una barca si dai allora aspetta arrivo lì ce l'ho fatta una barca vabbè non che neanche acqua ecco ci assomiglia a un elitra però dai si e lo scambio questo qua è scambio eco si allora adesso adesso suicidiamoci no aspetta non abbiamo finito abbiamo la testa del drago da prendere dov'è? qua sotto teoricamente ecco allora dobbiamo prima accopare lo shulker e lo scopo eh non è che puoi tanto nasconderti no tu vabbè io continuo lì se non si spawnano le endermite spero è vera spero è vera buon shot esci galassia se no no ok ma dov'è lo shulker ma dov'è lo shulker ah è qua dietro qua dietro l'infame aspetta che lo sciottiamo aspetta aspetta gli facciamo uno scherzetto guarda oh cazzo sto morendo sto morendo sto morendo sto morendo sto morendo sto morendo oddio stavo per morire ah eccolo qua dov'è no sei teletrasportato infame vabbè te 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 le trasporti e vai infame no ho finito le frecce l'arco è inutile adesso no ho finito le frecce allora adesso che c'ho un buco libero posso prendermi le la pozione qua no no consideri artigianale progresso computer guarda gli lasciamo la terra no non posso lasciargliela ho lanciato l'ultimo rezzo ah facciamo così perchè non me lo fa prendere non me lo fa aprire ah perchè non posso allora per chiudere l'episodio ci prendiamo la famosa testa del drago ok allora dobbiamo trovare un modo io ho 7 di questi ma chi si frega delle torce tanto me le rifaccio le torce ok ora abbiamo la nostra missione che è riuscire ad andare a prendere la nostra bellissima testolina del drago che poi se gli mettiamo della redstone sotto quella lì si muove pure ah si l'ho visto che è bellissima c'è allora facciamo la protezione di sicurezza che non si sa mai ok ok abbiamo sconfitto il drago e non vogliamo portare a casa un trofeo eh usami se cadessi da qua sarei morto perchè mi sa che l'elitra senza razzetti non funziona e speriamo che vada bene pronti? 3 potete che chiudiamo anche qua non si sa mai 3 2 1 ho rischiato grande allora cosa buttiamo via buttiamo via sbarra e l'accumulo che disgrazia ok e guardate cosa facciamo adesso ta na 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 bello ho fatto un mezzo infarto ok ragazzi oddio è troppo figo raga oddio vera roba ma è fighissimo allora ragazzi io vi saluto per questo episodio è tutto abbiamo trovato il cosa è il void siamo sono arrivati miei abbiamo trovato il void e l'elitra con un aiuto ciao ciao aspetta nate che stiamo finendo allora ci salutiamo abbiamo trovato l'elitra con l'elitra utilizzando l'elitra con l'elitra poi abbiamo finito i razzi quindi non so come torneremo a casa con la nave è bello che entri la nave c'è una scialuppa c'è una scialuppa c'è una scialuppa e salvataggio abbiamo sostituito l'elitra con la barca che è la scialuppa poi abbiamo preso un po' di materiale abbiamo trovato tante buone cose e quindi diciamo stanno finendo adesso gli effetti abbiamo preso la testa del drago che ce l'abbiamo adesso e prossimamente continueremo l'esplorazione però dell'overboard quindi si apre la bocca quando cammini fantastico bellissimo si apre la bocca comunque abbiamo preso tutto il materiale e ci salutiamo bella ciao grazie